Io vi propongo quattro taglie, a seconda del vostro dress, del vostro vestire. Il primo è il regular, sottotitolo la scuola come la conosciamo, io dal 1970 perché ho fatto la prima elementare, non ho fatto l'assilo perché le suore mettevano il formaggio sulla pasta, non mi piaceva, e quindi mia madre mi portò via, Caporello, vuol dire fare il 4.0 dove c'è coerenza totale tra aula, classe, tempo e curriculum, cioè c'è la prima A, la prima B, in quello spazio. Appresso a questo c'è il laboratorio come spazio specializzato, allora io dico, ah sì, questa è la scuola mia, cosa fare? Beh, le scelte non sono tantissime, o puntare a potenziare i laboratori, magari creandone qualcuno di nuovo, e quindi questo ha un senso come scelta, oppure d'altra parte fare una call tra gli insegnanti e dire chi di voi vorrebbe avere lo strumento che è il sogno della sua vita? L'esempio che facevo prima della stampante 3D, no? Ci potrebbe essere un insegnante che è il sogno della sua vita. Qual è il tema? Che poi nascono le gelosie, eccetera, eccetera. Però, a parte questo tema che è umano, diciamo, noi dobbiamo essere sovrumani, no? Per fare il 4.0 è sovrumano, no? A parte questo tema, o l'insegnante vuole fare CLIL, allora gli do gli strumenti per fare CLIL in aula. Diventa il 4.0 su una misura regular. Non ho cambiato nulla nella scuola, la scuola è quella, ok? E questo, sinceramente, è, come dire, può essere la prima taglia. Oppure possiamo fare un lavoro più fit, a ognuno il suo. Nelle scuole Dada, tipicamente, è molto facile fare questo PNRR 4.0. Perché? Perché ognuno ha la sua aula, quindi io dico, vado dal professor Bombardi, che è professore di tecnologia, e dico, professor, oltre tutte le cose che ho già comprato in questi anni, con tutti i bandi, eccetera, eccetera. Tu cosa vorresti? Che ti piacerebbe avere in aula? Un monitor su ruote. Perfetto, lui vuole il monitor su ruote. A quel punto, il 4.0, scusate la banalizzazione, ma non è, come dire, non è così banale, diventa la realizzazione del suo sogno d'aula, no? Diventa automaticamente quello che lui fa in classe. Faccio un esempio sulle scuole elementari, una parete con i contenuti interattivi, che è una roba molto carina, va bene? Anche un po' wow, insomma, di storia, geografia, no? Può essere uno spazio. Certo, qual è l'alternativa? È metterlo nei laboratori. Però qui stiamo parlando del fit, cioè il fatto che ognuno ha la sua aula e ha anche un laboratorio. Quindi, tipo Dada. Appunto, le aule e laboratorio sono tipicamente i fit, i modelli Dada. Qui propongo una roba un po' estrema, molto per gli elementari, una cosa che ho proposto anche con scarso successo da me, le aule a righe e a quadretti. Una roba molto particolare, nel senso che, se io ho due classi parallele, no? Diciamo, la quarta A e la quarta B, ok? Magari sono anche vicine, ok? Però voglio specializzare i due spazi. Attualmente la quarta A e la quarta B hanno le letterine e hanno i numeri dentro. Parliamo di elementari, eh? Quindi, hanno questo. Che faccio? Se gli insegnanti, le due coppie della quarta A e della quarta B si amano molto, e il problema è questo, decisamente. Però, noi ci piace il mondo bello, capito? Quindi, quando si amano molto, potrebbero fare che cosa? La quarta A diventa l'aula a righe, quindi l'aula di italiano, dove vado a mettere tutti i materiali che saremmo per fare l'italiano in maniera innovativa, naturalmente, se no che stiamo a parlare, è 4.0. L'altra aula diventa l'aula dei due insegnanti. Naturalmente, attenti che questa non è una scelta, dei due insegnanti di matematica, dove dentro ci fanno matematica, scienza, geografia, insomma. Lì, il problema è quello delle materie piccole, che magari non sempre coincidono le accoppiate, però, diciamo, se già il grosso dell'orario, no? Mi prevede delle attività del genere, è molto interessante questa cosa, perché diventano, in un ambito di non specializzazione, diventano delle aule laboratorio. Come dire, l'idea, secondo me, è molto bella. Naturalmente, in questo modello salta la coerenza tra aula, classe e tempi, e con il tempo, ricordiamoci sempre, salta anche il curriculum, perché anche in un'aula a righe a quadretti, diventa un potenziamento di apprendimento non banale sulla specializzazione. Attenzione, che se io ho le aule a righe a quadretti, cambia anche l'orario. Che non è banale. Io, poi, sono sempre per le soluzioni di sistema. Cioè, per me, che lo faccio in una classe, non mi serve a molto. Però, certe volte, per fare la sperimentazione, innovazione, posso più richiudere un occhio. Però il tema è che queste soluzioni del FIT impattano anche sul tempo, sull'orario, e sicuramente, a lungo andare, impattano sul curriculum. Perché le esperienze che faranno i bambini, che sono nella classe, attrezzate in maniera particolare, non saranno le esperienze che faranno gli altri. Questo è un tema interessante. E qui, extra small, piccolo e mobile. E invece, un altro tema molto interessante, i laboratori mobili, di cui abbiamo qui un grandissimo rappresentante, che è l'architetto Bombardi. L'idea qui è interessante. Non è più che io trasformo un aule e basta. Io, che è la vecchia idea dei carrelli, no? Per qualche maniera. Quando non c'erano abbastanza PC, mo ce ne sono arrivati, io porto il laboratorio in classe portando un carrello, ok? Qui lo stesso posso portare un laboratorio di scienze, posso portare un laboratorio di tecnologia, ne parlerà lui più diffusamente. E' un processo inverso, non vado a modificare l'aula, ma vado a portare il laboratorio in classe. Il vantaggio, lo dirà meglio lui, naturalmente, perché ci studia su queste cose, lo spazio viene modificato dall'arredo ed è una soluzione che può servire a tanti. Questa è interessante come cosa. Ovvio che poi, a livello poi di rendicontazione, dovremmo spiegare che noi quel tipo di struttura serve X studenti, perché ci sarà questo tipo di monitoraggio, eh? E che l'impatto tocca X classi. Questo lo dico perché su questo ci sarà un controllo molto forte. Però è la dimensione del piccolo che entra nel grande, ok? Cioè, del laboratorio in piccolo, piccolo per modo di dire, che poi sono cose importanti, entra nell'aula. E al viceversa, quindi questo è l'extra small, al viceversa l'extra large, gli spazi fluidi. Ora, voi avete visto qui all'ingresso c'è la Gorà, la Gorà due ore prima che arrivaste voi c'erano le classi, c'erano gli studenti che fanno tutoraggio. Ci sono quei banchi che ora ho visto elegantemente, i bidelli hanno fatto sparire, ci sono dei tavoli che vengono messi dagli stessi ragazzi, questa è una scuola media, quindi si può fare, e spazi grandi che vengono attrezzati per, per far cosa? Per far lavoro di gruppo, eccetera, eccetera. Ci sono delle scuole, credo, in Umbria, ora non ricordo il paese precisamente, ma sul sito di Indira sicuramente trovate anche la presentazione, che hanno anche i corridoi, che sono dei veri e propri spazi di didattica. Quindi c'è anche questa evoluzione, corridoi, spazi grandi, svincoli, angoli ciechi, e l'altra dimensione, no? Sono i grandi spazi, i corridoi, volendo anche l'outdoor, fuori, il gazebo, eccetera, eccetera. In questo caso è lo spazio grande che viene modificato. Grazie per la visione!